Ciao a tutti, in questo video facciamo un riassunto il più breve ed esaustivo possibile sulla vita, le opere e la poetica di D'Annunzio. Ma siccome le cose da dire sarebbero tantissime, vi lascio anche queste altre slide che vi aiutano a riassumere e schematizzare la mole di pagine che sicuramente avrete sui vostri manuali. Iniziamo dalla vita, che nel caso di D'Annunzio è molto molto importante. Infatti D'Annunzio non è stato solo un poeta, uno scrittore, ma anche un politico, un aviatore, un militare o uno degli intellettuali più importanti della sua epoca. Nacqua a Pescara nel 1863 in una famiglia piuttosto agiata e a 16 anni pubblicò già la sua prima raccolta di poesie, Il Primo Vere. E a tal proposito vi racconto anche un episodio piuttosto curioso che inizia un po' a farvi capire il personaggio di cui stiamo parlando. D'Annunzio infatti messe in giro la falsa notizia della sua morte avvenuta cadendo da cavallo. I giornali quindi pubblicarono questa triste notizia di questa morte prematura, di questo giovane e talentuoso ma sfortunato poeta. E così le persone cosa fecero? Si precipitarono in libreria a comprare Il Primo Vere, che quindi ebbe un certo successo editoriale. Salvo poi scoprire che la notizia era completamente falsa. Terminati gli studi liceali a 18 anni si trasferì a Roma e si iscrisse alla facoltà di lettere, ma D'Annunzio frequentò pochissimo e infatti non si laureò mai. Piuttosto invece frequentava i circoli letterari, i salotti e iniziò a condurre una vita piuttosto mondana e sregolata, fatta di continui scandali, avventure amorose, lusso, duelli, gioco d'azzardo e infatti si riempì di debiti. Ma tutti questi scandali non solo facevano parte un po' della natura di D'Annunzio, ma servivano anche per vendere più libri. D'Annunzio infatti aveva ben capito come funzionava il mercato editoriale e quindi dava al suo pubblico un personaggio di cui parlare. Non era tanto importante che se ne parlasse bene, piuttosto che se ne parlasse. D'Annunzio scrisse veramente moltissimo e spaziava dalle poesie alle novelle, romanzi, opere teatrali. Non tutte queste opere però sono degne di nota, ma servivano al poeta soprattutto per guadagnare di più e riuscire a sostenere questo stile di vita molto a di sopra delle sue possibilità. Nel 1883 sposò la duchessa Maria Arduin di Gallese, da cui ebbe tre figli. La cosa però suscitò un certo scandalo e la povera Maria non sarà l'unica donna della sua vita, anzi. Tantissime infatti saranno le sue amanti e già, mentre è sposato con Maria Arduin, inizia una relazione clandestina con Barbara Leoni, le cui lettere poi le ritroviamo anche nel Piacere, che è uno dei suoi romanzi più celebri e importanti. I debiti aumentano sempre di più, così nel 1891 per sfuggire ai creditori si trasferì a Napoli. Vi rimarrà due anni e qui scrive anche per il giornale Il Mattino. Legge anche i romanzieri russi, come Tostoi e Dostoevsky, che lo influenzeranno nella fase della bontà, ma soprattutto legge il filosofo Nietzsche, da cui ricava il concetto l'ideale di superuomo, che vedremo meglio dopo. Anche a Napoli d'annunzio intreccia varie relazioni e tra queste Maria Gravina, una principessa siciliana già sposata e infatti il marito farà causa ad entrambi per adulterio. Ma soprattutto nel 1894 a Venezia conosce la famosa attrice Eleonora Duse, con cui inizia una nuova relazione e con lei si trasferisce nei pressi di Firenze, in una lussuosa villa detta La Capponcina. E qui scrive anche diverse opere teatrali, tra cui il romanzo Fuoco e Le Laudi del cielo e del mare e della terra degli eroi. D'annunzio si diede anche alla politica e nel 1897 fu eletto deputato tra le fila della destra. Due anni dopo però passò alla sinistra e, come lui stesso disse, vado verso la vita. Nel 1910, ancora una volta i debiti sono tanti e per sfuggire ai creditori, si trasferisce in Francia. Anche la sua villa, La Capponcina, gli verrà sequestrata. Dopo però lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, D'annunzio rientra in Italia. È il 1915 e, come sapete, in quel periodo in Italia divampava il dibattito tra interventisti e neutralisti, ovvero tra chi voleva l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria e chi invece voleva rimanere neutrale. D'annunzio ovviamente fu un interventista, quindi favorevole all'intervento dell'Italia in guerra. Fece molti discorsi di propaganda e, nonostante avesse ben 52 anni, addirittura si arruolò e compì anche diverse azioni militari. Possiamo ricordare ad esempio il volo su Vienne e su Trieste, in cui a bordo del suo amato aeroplano sganciò migliaia di manifesti anti-austriaci. Ma proprio in un incidente aereo perse un occhio e rischiò anche di perdere l'altro, quindi fu costretto alla totale immobilità per diversi mesi. E durante questo periodo raccolse i diversi pensieri e riflessioni che poi verranno pubblicate nel romanzo Il Notturno. Altra famosa impresa è la cosiddetta Beffa di Buccari, in cui, d'annunzi insieme ad altri, a bordo di motoscafi siluranti riuscirono ad affondare una nave austriaca. Ma la sua impresa più clamorosa e importante, che si studia anche sui libri di storia, è la famosa Occupazione di Fiume del 1919, dopo la cosiddetta Vittoria Mutilata. Era successo che, dopo la Prima Guerra Mondiale, all'Italia non erano stati dati tutti quei territori promessi con il Trattato di Londra del 1915, in cui l'Italia entrava in guerra a fianco dell'Intesa contro Austria e Germania. D'annunzio allora coniò proprio l'espressione di vittoria mutilata, cioè una vittoria a metà. L'Italia, infatti, nonostante avesse vinto, non le erano state date tutte le terre a cui aveva diritto. E così occupò la città di Fiume, insieme a un esercito di suoi fedeli seguaci e volontari. D'annunzio governò la città per circa un anno e la trasformò in una specie di città dei balocchi, piena di divertimenti. Però questa cosa poteva far nascere una nuova guerra tra Italia e la neonata Jugoslavia. Così l'esercito italiano lo obbligò a sgombrare la città. L'occupazione di Fiume sarà l'apice e il culmine della sua fama, ma sarà anche l'ultima delle sue imprese. Infatti nel 1922 Mussolini prende il potere e il fascismo prima lo esalta come padre della patria. Però poi Mussolini lo confina in una villa sul lago di Garda, che D'annunzio ribattezzerà come il vittoriale degli italiani. E questo perché D'annunzio era soprattutto un personaggio scomodo per Mussolini, un personaggio molto noto, carismatico e per questo appunto scomodo per il dittatore. Due parole anche sullo vittoriale degli italiani, che come detto si trova sul lago di Garda, ed è questa immensa villa dove D'annunzio trascorse gli ultimi anni della sua vita e che trasformò in un vero e proprio museo dedicato a se stesso. Qui infatti vi raccolse migliaia di opere d'arte, tra sculture, libri, le medaglie al valore che aveva conquistato, addirittura l'aereo svam usato nel volo su Vienna. Ma troviamo anche la prua di una nave militare, la Puglia, e addirittura anche il motoscafo silurante della Beffa di Buccari. Abbiamo poi diversi ettari di giardini, innumerevoli sale, addirittura un anfiteatro romano dove si fanno gli spettacoli, e troviamo anche la sua tomba. Infatti D'annunzio morì proprio qui nel vittoriale a 75 anni, nel 1938. E oggi il vittoriale è dichiarato un monumento nazionale ed è aperto ai visitatori. E adesso ci addentriamo nella sua poetica e nella sua vasta produzione letteraria. Prima però precisiamo che la figura di D'annunzio è molto diversa dal tipico intellettuale, artista, poeta dell'epoca, che era relegato ai margini della società borghese, che si isolava proprio perché era in opposizione, in contrasto con questa società borghese in forte ascesa, e anche in atteggiamento antipositivista, di sfiducia verso appunto il progresso scientifico e tecnologico. Anche D'annunzio è in atteggiamento critico verso la società borghese. Ma piuttosto che isolarsi in una sorta di vittimismo, lui la affronta, la combatte, cerca di schiacciarla, e lo fa costruendo il mito del poeta esteta, poi del superuomo e infine del poeta avate. La poetica, lo stile, le opere di D'annunzio evolvono nel corso del tempo, e infatti la critica ha riconosciuto diverse fasi, come quella dell'estetismo, della bontà, del superuomo, ma adesso le vediamo meglio da quest'altra slide partendo proprio dagli esordi. D'annunzio inizia a pubblicare nei primi anni Ottanta dell'Ottocento, e le sue prime pubblicazioni sono appunto poesie raccolte poetiche, come Il primo avere e Canto nuovo, che prendono a modello le odi barbare di Carducci. Infatti qui il linguaggio è elegante, ma anche classicista. Per quanto riguarda la prosa, invece pubblica delle novelle, cioè dei racconti brevi, ispirate proprio al Verismo e a Verga, soprattutto alla sua opera Vita dei Campi. La sua prima pubblicazione è Terra Vergine del 1882, vent'anni dopo invece abbiamo Novelle della Pescara. È proprio come faceva Verga, che ambientava le novelle nella sua terra d'origine, la Sicilia, così D'annunzio le ambienta in Abruzzo. Ci sono però delle importanti differenze tra il Verismo e D'annunzio. Infatti D'annunzio non adotta il principio dell'impersonalità, che è il principio fondamentale del Verismo, in cui l'autore scompare, non dà giudizi, non dà soluzioni, e D'annunzio inoltre non è nemmeno interessato alle questioni sociali. Piuttosto adotta il principio dell'estetismo, che vediamo meglio tra poco, in cui appunto queste zone rurali, pastorali, abruzzesi, appaiono come dei luoghi idilliaci, con personaggi mossi da istinti e passioni primordiali. Quindi in D'annunzio prevale l'estetismo, più che lo stile classicista di Carducci o il Verismo di Verga. E per quanto riguarda D'annunzio, l'estetismo è proprio una delle parole chiavi più importanti da sapere. Ma che cos'è l'estetismo? Detto semplicemente, è il culto della bellezza. Cioè la bellezza, il bello, l'arte, sono i valori supremi, più della morale, più delle leggi ordinarie. E infatti il poeta, come abbiamo visto nella sua vita, ma anche i personaggi delle sue opere, sono sempre alla continua ricerca di queste sensazioni di piacere, sensazioni rare, non banali. Ricordate le tante donne di D'annunzio, ma anche le tante auto che ha posseduto, i cibi raffinati, gli abiti eleganti. Quindi i tantissimi oggetti lussuosi. La bellezza, insomma, deve venire prima di tutto. I suoi personaggi, quindi, sono dei dendi, cioè dei giovani di classe nobiliare, molto raffinati, eleganti, che vestono bene, amanti della bellezza. E una delle espressioni più azzeccate che ben riassome questo concetto è quella che ritroviamo nel suo romanzo Il piacere che vediamo tra poco, e cioè vivere la propria vita come un'opera d'arte. Tutta questa ricerca della bellezza, nello stile delle sue opere, sia per quanto riguarda la prosa, quindi i romanzi, ma anche per quanto riguarda la poesia. Per cui il linguaggio è sempre elegante, raffinato, con molti artifici retorici e parole rare e ricercate. E i versi sono ricchi di musicalità. Come dice D'annunzio stesso, il verso è tutto. E vi ricordo anche che l'esterismo è una delle correnti, dei filoni principali, del decadentismo europeo. E D'annunzio è proprio uno dei massimi esponenti. Tra gli altri possiamo ricordare anche il mitico Oscar Wilde, con il suo famoso romanzo Il ritratto di Dorian Gray. Infine, per quanto riguarda le opere di questo periodo, ricordiamo Il piacere, che è un famoso romanzo che adesso vediamo. Per quanto riguarda le poesie, invece, possiamo ricordare L'isotteo e La chimera. Il piacere è probabilmente il romanzo più importante di D'annunzio, scritto nel 1889. Il protagonista qui è Andrea Sperelli, una sorta di alter ego di D'annunzio stesso. Andrea è un giovane aristocratico, ma è soprattutto un esteta, un dandy, amante della bellezza e del piacere. E ha raccolto soprattutto un insegnamento da parte del padre, e cioè che bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Il romanzo inizia così. È la notte del 31 dicembre del 1886 e il protagonista Andrea sta aspettando una donna bellissima, Elena. E mentre sta aspettando, parte un lunghissimo flashback, mediante cui sappiamo quello che è successo negli ultimi anni. Andrea ha conosciuto e si è innamorato di Elena alcuni anni prima, però lei lo ha lasciato per un lord inglese. Inizia una serie di relazioni con diversi amanti e resta anche ferito in un duello dal marito di una di queste. Proprio durante la convalescenza a casa della cugina, conosce una certa Maria Ferres, che è una donna molto pura, religiosa. Andrea inizia a corteggiarla, il problema è che Maria è già sposata, però alla fine cede ad Andrea. Il fatto è che Andrea però non ha dimenticato Elena e inizia anche a rivederla dopo che questa è tornata a Roma. Nel terzo libro infatti vediamo quasi una sorta di fusione tra le due donne e il disastro finale arriva mentre Andrea è a letto con Maria, ma la chiama con un altro nome, con quello di Elena e Maria Ferres inorridita fugge via lasciandolo per sempre. E Andrea praticamente resterà a vuoto dentro come l'armadio che ha appena acquistato a una casa d'asta. La terza fase di D'Annunzio è chiamata fase della bontà ed è una sorta di fase di transizione in cui D'Annunzio sperimenta nuove strade proprio perché la figura dell'esteta entra subito in crisi e al di là delle apparenze il suo mondo è fatto di bugie, di vuoto e non è capace di opporsi al mondo borghese. Così sperimenta queste nuove strade ispirandosi ai romanzieri russi ed è chiamata fase della bontà perché D'Annunzio cerca in qualche modo di recuperare quella purezza d'animo o quei valori della famiglia, dell'infanzia che invece nel romanzo del piacere erano del tutto negati. Tra le opere più importanti abbiamo due romanzi Giovanni Episcopo e L'Innocente mentre per quanto riguarda le poesie il poema paradisiaco. Vediamo brevemente di cosa parlano questi due romanzi. Giovanni Episcopo è un impiegato ha una vita mediocre è sposato con Ginevra che però dopo il matrimonio è diventata sempre più fredda e crudele nei suoi confronti e proprio a causa di questi problemi coniugali inizia a diventare alcolizzato e alla fine viene anche licenziato. Giuro invece un collega di Giovanni che dopo aver rubato dei soldi si era rifugiato prima in Argentina e poi si era intrufolato in casa sua. Giovanni però non era riuscito ad opporsi perché aveva sempre subito il fascino di questa personalità di Giulio. Tuttavia le cose cambiano all'improvviso quando un giorno Giulio picchia sua moglie. Giovanni non ci vede più e lo uccide. Il protagonista dell'Innocente invece si chiama Tullio è un ex diplomatico è sposato con Giuliana ma inutile a dirlo la tradisce continuamente. un giorno però la moglie si ammala gravemente e Tullio a questo punto cambia completamente atteggiamento la accudisce passa molto tempo insieme a lei si rinnamora della moglie insomma ha riscoperto quella purezza o quell'amore che aveva dimenticato. Un po' alla volta Giuliana si riprende ma si riammala di nuovo e scopre anche di essere incinta tuttavia non del marito Tullio bensì del suo amante. Il marito lo scopre ma essendo di nuovo innamorato della moglie in qualche modo la perdona tuttavia decide di commettere un infanticidio lasciando il neonato al gelo. La fase del superuomo inizia nei primi anni 90 quando il poeta si trova a Napoli ed è fortemente ispirata alla filosofia di Nietzsche del suo Ubermensch cioè dell'oltreuomo che d'annunzio semplifica banalizza e traduce nel concetto di superuomo. Da Nietzsche prende alcuni aspetti come il rifiuto del conformismo borghese della morale cristiana dell'affermazione della volontà di potenza e anche lo spirito dionisiaco cioè lo slancio vitale istintivo violento. Nietzsche infatti distingueva lo spirito apollineo caratterizzato dall'armonia dall'equilibrio dalla razionalità e lo spirito dionisiaco appunto caratterizzato da maggiore slancio vitale istintivo e violento privilegiando quest'ultimo. Il superuomo di D'Annunzio quindi è un uomo energico vitale violento aggressivo dominatore che si eleva al di sopra della massa e della morale comune ma non nega la figura dell'esteta anzi la ingloba il superuomo quindi è violento ma raffinato allo stesso tempo fonde la forza l'azione con l'arte con la bellezza e quindi si eleva al di sopra delle masse della società borghese la schiaccia e la domina in questo periodo il poeta inizia a proporsi anche come poeta vate cioè di guida per l'intero stato per quanto riguarda le opere i romanzi del superuomo sono questi tre trionfo della morte le vergini delle rocce e fuoco più tardivo invece forse che sì forse che no che però ha anche alcuni temi del futurismo per l'esaltazione delle macchine dei motori della velocità e soprattutto degli aeroplani brevemente vi lascio anche il riassunto delle tre opere cominciamo dal trionfo della morte che è ancora un superuomo grezzo non realizzato pienamente il protagonista della storia è Giorgio Aurispa un giovane esteta abruzzese che lascia il suo paese d'origine per andare a vivere a Roma inizia una relazione clandestina con Ippolita una donna già sposata e i due addirittura vanno a vivere insieme in Abruzzo però Giorgio non riesce a realizzare quell'ideale di superuomo a cui tanto aspirerebbe ed è sempre più ossessionato dall'idea della morte e a un certo punto inizia a vedere anche Ippolita stessa come una nemica colpevole della sua infelicità il romanzo si conclude veramente in tragedia con il suicidio di Giorgio che trascena con sé anche la povera Ippolita nelle vergini delle rocce invece il protagonista è Claudio Cantelmo il quale ha un obiettivo ben preciso ovvero generare un figlio che diventi un vero superuomo suo erede e futuro sovrano per farlo però occorre scegliere la compagna giusta e la scelta ricade sulle tre figlie del principe Montaga da qui il titolo Le Vergine delle Rocce che richiama anche a un famoso dipinto di Leonardo da Vinci Violante è bella e seducente la classica fan fatale che spesso ricorre nelle opere di D'Annunzio poi c'è Massimilla che vuole prendere i voti per farsi sora e quindi è già fuori dalla scelta e infine c'è Anatolia che sarebbe la sua prima scelta tuttavia Anatolia lo rifiuta perché vorrebbe occuparsi della sua famiglia molto problematica con i fratelli malati la madre folle il padre vecchiotto e quindi Anatolia lo indirizza verso Violante però il romanzo si conclude senza una vera e propria scelta definitiva sarebbero dovuti seguire altri due libri con la trilogia del Giglio però non furono mai scritti infine abbiamo Il Fuoco con protagonista Stelio e Frena che dal latino significa senza freni quindi già da questo vedete l'immagine del superuomo ama infatti la cultura latina l'arte e soprattutto Richard Wagner grande compositore tedesco l'ambientazione a Venezia e anche qui Stelio ha una relazione con una donna la Foscarina che è un'attrice in declino e ricorda molto Eleonora Duse però la tradisce con Donatella una cantante molto più giovane il romanzo si conclude con i funerali di Wagner e anche questo romanzo avrebbe dovuto far parte di una trilogia la trilogia del Melograna però incompiuta anche questa vi ho parlato brevemente delle trame di questi romanzi perché vi volevo far notare come il superuomo si è da una parte a elevati propositi energico violento vuole dominare la realtà ma tutti e tre i romanzi si concludono con la sconfitta o con la morte addirittura del protagonista vediamo brevemente anche le opere teatrali in questo periodo d'annunzio frequenta Eleonora Duse questa importante attrice di teatro che appunto lo avvicina a questa forma letteraria anche nel teatro i protagonisti non sono personaggi comuni ma eccezionali con forti passioni e gesta fuori dal comune il linguaggio è aulico raffinato e in versi con il tempo soprattutto ambientato nel passato anche nelle sue opere teatrali ricordano alcuni temi come l'estetismo il superumismo e spesso anche questa donna nemica questa fan fatale con la fine tragica del protagonista tra le tragedie più importanti possiamo ricordare Francesca da Rimini ma soprattutto la figlia di Iorio di cui vi lascio anche un breve riassunto la storia ambientata in Abruzzo nella montagna della Maiella in un tempo lontano arcaico ma anche indefinito non sappiamo di preciso quando i protagonisti sono la giovane Mila che è la figlia di Iorio che è accusata di stregoneria girano delle voci su di lei e poi c'è Aligi un giovane pastore che è in procinto di sposarsi mentre ci sono i preparativi per questo matrimonio Mila irrompe nella casa di Aligi per sfuggire a un gruppo di metitori Aligi stava facendo i suoi preparativi per il matrimonio però vedendo questa donna in difficoltà la difende ma resta anche incantato dalla bellezza di Mila e così il matrimonio salta e i due andranno a vivere insieme isolati in una grotta la tragedia però arriva adesso perché anche il padre di Aligi Lazzaro è rimasto incantato dalla bellezza di Mila e vorrebbe farla sua si scontra addirittura con il figlio e durante questo scontro resta proprio ucciso dal figlio Aligi quindi viene accusato e messo a morte però a questo punto Mila prende tutta la colpa su di lei dicendo di averlo stregato e per questo verrà bruciata dai paesani Mila quindi ha sacrificato la sua stessa vita per proteggere l'amato per quanto riguarda la poesia di D'Annunzi invece il suo capolavoro è sicuramente le laudi del cielo del mare della terra e degli eroi l'opera sarebbe dovuta essere di sette parti ognuna dedicata alle stelle maggiori delle Pleiadi che è una costellazione di stelle composta appunto da sette stelle maggiori tuttavia l'opera è incompleta perché furono pubblicati i primi tre libri molto importanti Maia Elettra e Alcione pubblicati nel 1903 seguirono poi anche Mero Peastero per più tardi ma sono opere minori delle laudi quindi vediamo i primi tre libri Maia è il primo ed è un lungo poema di 8400 versi con strofe di 21 versi ciascuna Elettra invece raccoglie 19 poesie a tema eroico e politico con la celebrazione delle glorie passate di diverse città e anche di diversi uomini italiani infine L'Alcione che è il vero capolavoro di D'Annunzio per quanto riguarda la poesia si compone di 88 testi diviso in 5 sezioni ed è ambientato in un'estate trascorsa dal poeta in Toscana e proprio nell'Alcione troviamo due delle sue poesie più note soprattutto La pioggia nel Peneto faremo sicuramente un video a parte però qui giusto due cose il poeta si trova in un peneto in un bosco della Versilia insieme alla donna amata che nella poesia si chiama Ermione i due vengono colti da un temporale ed è curioso notare come un poco a poco mentre la poesia avanza i due si fondono con la natura fino a diventare un tutt'uno con essa e questo è il famoso panismo di D'Annunzio in cui c'è proprio questa fusione tra uomo e natura e deriva dal Dio Pan cioè dal Dio della natura lo vediamo ad esempio nei versi piove sui nostri volti silvani la poesia poi è ricchissima di figure retoriche ma soprattutto i versi sono ricchi di musicalità con i suoni delle parole molto importanti e che riproducono proprio il suono della natura della pioggia vi faccio solo notare come gocciole crepitio e crociare vediamo proprio questo intensificarsi della pioggia già dal suono di queste parole bene concludo questo video abbastanza lunghetto su D'Annunzio con due parole sul decadentismo perché D'Annunzio è stato uno dei massimi esponenti del decadentismo e vi entra soprattutto per l'estetismo per il simbolismo e il panismo e anche per questo atteggiamento di critica verso la società borghese ovviamente con queste differenze che abbiamo detto prima e anche per il rifiuto della morale comune e atteggiamento antipositivista grazie a tutti